Prendersi cura di chi ha perso tutto. Donare un pasto caldo. Dare sostegno a chi è in difficoltà. Dare una seconda possibilità. Accogliere. Proteggere. Offrire un riparo. Ridare vita a un luogo. Dare futuro alla vita. Sono solo alcuni dei gesti d'amore che puoi realizzare con una firma. Quella per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che fa bene.